Welles Channel Italia. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Oggi vi presento un attore di Hollywood, Gil. Ciao a tutti ragazzi, è un Gil del Brasil. Eccoci qua con il grande Luigi. Ecco, avete già capito come andremo a morire in questa intervista. Allora, lui è un grande amico da un po' di anni ormai e è con noi perché? Io gli ho rotto abbastanza le scatole perché? Perché mi piace che lui ci parli un po' di quello che fa, nel senso che è un istruttore, mi insegna da tantissimi anni nelle palestre, nel campo di palestre, e corsi di vari tipi. Allora, da quanti anni, tanto come sei arrivato a questo tipo di attività? Allora, io vengo dal ballo, dalla danza, ovviamente in Brasile. Anche io lo sai? Anche io, anche io. Si vede, infatti. Anche io, sempre ho fatto questo movimento. E niente, dal 99 in Brasile, insegnando già ballo, una panestra avevo bisogno di un esempio di fitness e mi hanno invitato a fare la formazione. Io lì ho cominciato con il mondo delle Smiths in Brasile, 15 anni fa circa, anche un po' di più. Venendo in Italia nel 2006-2007, qua c'era anche la Smiths, ma non era ancora così diffusa, non era conosciuta ancora. Poi, piano piano, grazie al grande lavoro di questa azienda internazionale nata in Nuova Zelanda, insieme alla collaborazione con Lesmines Euromed. Lesmines oggi è una potenza, sta spargendo questo modo di lavorare, di vedere il fitness per tutto il mondo. che è, appunto, come stavamo parlando, il fitness è una cosa veramente utile nella vita di ognuno. Cioè, l'attività fisica nella vita di ognuno. Senti, allora, hai iniziato in Brasile, hai detto? Ok. E poi sei arrivato in Italia. Poi sono arrivato qua, direttamente qua. Dove? Come ti sei trovato? Guarda, no, quando sono arrivato non sapevo dire buongiorno. Infatti, oggi non so parlare italiano, mi prendono in giro. Non posso fare un segno di... No, faccio così per non fare un altro segno. E quindi sono arrivato a Genova, piano piano, appunto, non sapevo neanche parlare. Ho iniziato a fare lavori vari, fino a che sono riuscito, piano piano, a introdurmi in una palestra e fare conoscere questa attività che, in Liguria, all'epoca, quando sono arrivato, non esisteva. Non sapevano cosa erano le smiths, non sapevano cosa era questa tecnologia. Quanti anni hai che sei in Italia? Sono 11 anni. Ah, certo. Insomma, sei anche un esempio di un buono straniero che è venuto in Italia, da Moralese. E hai 11 anni che sei qua, insomma, sei anche molto seguito. Quindi hai sicuramente avuto anche delle qualità nell'affermarti, comunque possiamo dire che era tua seconda casa. Sì, ormai, quasi la prima, la mia famiglia dice che non torno più, perché hanno detto che sono praticamente diventato italiano. Io non parlo per me, parlo in generale. Penso che tutti i professionali e professionisti si lavorano con serietà, credibilità e passione per quello che fanno hanno successo. Ovviamente con l'umiltà, secondo me, indubbiamente deve essere la prima cosa. Quindi per quello non volevo neanche citarla. Ma se sei professionale, credibile e sei appassionato per quello che fai, penso che difficilmente non avrai successo. Anche perché comunque la tua sezione, nel senso di corsi di insegnamento, è comunque una grande passione, un grande studio. Perché comunque ogni lezione che viene comunque preparata, l'utente finale la vive come un'esperienza. Giusto? Ma dietro... niente a caso. No, infatti... Anche se ci sono istruttori molto bravi, che sanno intrattenere anche, no? Bravo! Io dico che la Smiths o la amo o la odio, nel senso che per fare parte di questo mondo, di questo mondo qui della Smiths, parlo di questo perché è l'azienda per cui lavoro, deve lavorarci tanto, deve lavorarci veramente tanto. Chi c'è dentro sa di cosa sto parlando. Cioè non è che oggi vai a casa e pensa domani faccio questo. O ti svegli di mattina e va bene faccio questo. No. Ti devi preparare mesi e mesi prima, addirittura quasi anni. Preparando perché è una cosa... E poi comunque, scusami, ci vuole anche delle doti naturali. Nel tuo caso sei un intrattenitore, sei... Beh, ognuno... Sì, è anche vero che un buon insegnante, soprattutto nel tuo settore, deve essere anche... Deve avere anche un certo carisma... Sì, sì. No? Cioè, ognuno ha il suo modo di fare. Quello non si può negare. Ognuno ha il suo modo di fare. Se lavora con professioni e professioni, ok. Ma ci sono quelli che sono un po' più scemi. Certo. Ha il suo modo di fare. Andiamo a vedere un attimino invece i tuoi utenti. Sì. Ok? Undici anni in Italia, ma anche tanti anni fuori. Sì. Hai a che fare con variante tipologie di utenti o clienti, chiamiamoli clienti, no? Sì. Ci sono tanti tanti motivi per cui una persona può venire a fare fitness. Sappiamo che ci sono quelli malati che pensano nell'estetica. E vengono a fare perché i corsi, dipende da quello che fai, ti può aiutare tantissimo. Ci sono quelli che lavorano tutto il giorno, hanno sempre la stessa quotidianità e quindi non vogliono cambiare un pochettino la loro routine. E vengono in palestra. Ci sono quelli che vengono per fare amicizia, perché è chiaramente come stiamo facendo qua. Quindi ci sono tanti settori che comunque portano sempre al bene. Che sia fisico, che sia mentale, che sia di rapporto umano. Quindi fa sempre bene. E l'età media dei tuoi utenti che vengono a fare le tue classi? Le mie classi? Questa è una domanda bellissima. Più giovani, più... Grazie per questa domanda. Sono felice per lavorare in questo settore, perché nel mio settore non vuol dire che non sono ragazzine, non sono giovani, non sono le persone più grade. 3,60. Così riesco ad avere un rapporto con tutti quanti, è la cosa più bella. Sì, anche perché proprio in questo canale stiamo spingendo molto, no? L'importanza della pratica sportiva. Cioè dell'attività fisica in tutte le sue forme. Quindi abbiamo parlato dal rugby al palo al muoto, alla pesistica, al jiu-jitsu brasiliano. Io penso che l'attività fisica in generale, non solo al fitness, come stai dicendo, ti allunga la ditta. Il mio pensiero è quello. Ti allunga la ditta. Assolutamente c'è l'aspetto mentale. Non c'è paragone. Non c'è paragone. C'è il mio fratello che è appena arrivato, è tornato a fare attività adesso e lui stesso ha detto che io ho molto più energia, sono sempre molto più predisposto per fare tante cose, piuttosto che lui che fa una vita un po' più tranquilla, sedentaria. Quindi adesso lo tieni lì. Adesso lo stai spacciando. Adesso lo stai spacciando. Adesso sta camminando, sta camminando. Ti hai nascosto il passaporto così non scappa. Non scappa più. Senti Gin, ti ringrazio tanto. È un carattico e sono contento di tanti anni. La scusa per rivederti dopo un po'. Questa bestia c'è qua. Questa bestia mi ha dato tanto, mi ha dato torre e seguo i suoi esempi. Infatti stavo parlando che mi allena ancora con i suoi metodi, grazie a Dio. Eccoli qua. E allora sapevo che finiva questo video. Grazie di te. Dai ciao ragazzi. Ciao.